La prova finale sarete coinvolti tutti quanti insieme, sarete voi tutti quanti giudici di questa prova perché è la prova finale, è la prova che attribuisce ben 10 punti, quindi potete decidere anche di ribaltare se volete la classifica fino a questo momento stabilita dalle domande o come se volete potrete confermarla e per farlo vedremo i nostri concorrenti cimentarsi in coppie, in tre coppie alle quali attribuiremo una materia diciamo scolastica di qualunque tipologia, allora alla coppia numero 1 formata da Ode Scalchi e da Lasciuna Lampa, quale materia vogliamo attribuirgli? Musica. Alla coppia numero 2 da Ode Scalchi e Rosina di sicuro che materia vogliamo attribuirgli? Storia. Alla coppia numero 3 dalle due signore che materia vogliamo attribuirgli? Matematica. 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 Allora la prima coppia musica, la seconda coppia storia, la terza coppia matematica. I concorrenti potranno rubarsi da scena quando vogliono, quando si ritroveranno in coppia con il compagno corrispondente alla materia si dovranno cimentare su quella materia. Per cui partiamo con la prima coppia e con la materia della musica, pronti, partenza, via! Buongiorno, io vorrei studiare l'Ukulele, sono ben capito com'è fatto, però mi piace il nome come suona, se suona bene il nome suona... Le vuole quello a forma di flauto o quello che ha una base più rotonda e delle corde? Ah ci sono vari tipi di ukulele, quello con le corde. Quello con le corde? Sì, mi sento più a mio agio con le corde. Beh, sai che prima di giungere a uno strumento bisogna imparare le note? Sì. Mi dica se sa... Non so? Non so. Tani! Sì! Tani! Sì! Tani! Sì! Guarda! Sì! Guarda la cattina dell'Africa! Qui c'è un buco! Mi sono ancora scomperto niente di! Oh! Secondo me è dove c'è l'esotto! E come fai a saperlo? E si tramanda da generazioni in generazione, già da mio padre, mio nonno e suo nonno che... Cercavano l'esotto! Cercavano l'esotto, quindi dove c'è... Secondo me non si fa così il pi greca R? Non si fa così? No, no, secondo me no. Sì. Allora, il pi greca... Pensa al pi. Il pi è così. La greca... E se è greco sarà di qua perché scrivono al contrario. Ma se... La R? La R è così. È così. Datemi una R! Datemi una P! Secondo me non lo passiamo l'esame. Ma se io attacco l'esotto con tre carri armativi da Sudafrica? Prova! Però credo che l'ONU non sia d'accordo. Ma no, dici che non si può? No, secondo me non si può. Però si chiami un bambarardo di... Un bambarardo nel bambarardo. Il bambarardo? Cosa sta facendo? Non si soffia sulle corde! Si suonano con le dita! Ah, mi scusi. Non è che serve il bambarardo per scoprire? E' che io prima di scoprire come si è iniziato il bambarardo. Sono volumi di enciclopedie di là, basta che va un bambarardo e prende un bambarardo. Allora, prima lezione. Si. L'Ukulele è come un essere umano. Ok. E' dedicato. E ti vediamo la di Pitagora, adesso me lo dici tu. Datemi una P! Datemi una I! Datemi una T! Allora, se è Pitagora... Così. Quello è il tetto di Pitagora. Perché Pitagora aveva il tetto, non era un senza fissa di mora. Però... Allora, io ho provato a invitare a cena l'Ukulele, però non sono ancora entrato in sintonia... L'Ukulele non mangia, perché se no gli si gonfia lo stomaco. Gianni! Sì! Guarda che se noi non andiamo in esotto, l'esotto viene da noi! Aspettiamola allora, scusate, ho fatto un sbattimento. Si viene qua, scusa. Gli prepariamo una cenetta, apriamo il divano letto... Va bene, dai, allora che cena gli prepariamo, dai! Porca, cosa mangiano in esotto? Non lo so cosa... Non saranno mica cannibari in esotto? È per quello che non c'è... Ah, gli egiziani ce le avevano. La fissa di mora? Gli egiziani ce lo avevano... E prima no. Lo? Lo? Mi ha lasciato! Mi ha lasciato! Guarda tu! E se no... Devi tornare e cercare di riconquistarlo. Suona le sue corde, vedrai come vibrerà. Eh, ma non le trovo, se le andate via con lui le corde. Non posso più suonarle. Vabbè. Me le ha suonate lui. Me le ha dato. Mi ha lasciato con la sua. Abbiamo con il trombone, vediamo se va meglio. No, il trombone no. Come no? No, il trombone. E se sono che ti sacrifichi prima tu? Ma perché... Eh sì, tu li hai invitati a casa? Giusto, c'hai ragione. Li hai invitati tu a casa. Io ho detto andiamo noi. Però se c'è la tua... Va bene. Io preparo il brodo nella pentola grande. Ho trovato... La gran cassa. La gran cassa. Grazie.